Come ogni anno a giugno, Forbes, la rivista statunitense di economia e finanza, ha pubblicato la classifica degli atleti più pagati degli ultimi 12 mesi. Si basa su stipendi, bonus e contratti di sponsorizzazione degli atleti dal 1 giugno 2016 al 1 giugno 2017, senza togliere tasse o percentuali che si prendono gli agenti. Quest'anno al primo posto c'è Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese del Real Madrid. Era primo anche l'anno scorso e negli ultimi 12 mesi ha guadagnato 83 milioni di euro, circa 12 in più rispetto a Lionel Messi, che è terzo, e circa 6 in più rispetto a Lebron James, che è secondo. È dal 1990 che Forbes stila questa classifica, ed è la terza volta che al primo posto c'è un atleta di uno sport di squadra. Prima che succedesse per due anni di fila a Cristiano Ronaldo, era successo a Michael Jordan, e prima che se lo prendesse Cristiano Ronaldo, il primo posto era stato per 15 anni di uno tra il golfista Tiger Woods, che quest'anno è 17esimo, e il pugile Floyd Mayweather, che nel frattempo si è ritirato. La classifica mette in ordine i 100 più pagati, nessun italiano e nessuno calciatore che giochi in Serie A, e qui trovate i primi 25.